Innanzitutto quello che si farà è ciò che c'è scritto nel progetto. Il progetto parla di un centro di documentazione che ha al suo interno una parte espositiva che possiamo chiamare anche un centro di interpretazione. Ma noi stiamo costruendo un centro di documentazione, vale a dire una struttura culturale che avrà a fianco di un centro espositivo, cioè appunto questo centro di interpretazione del fascismo attraverso un percorso storico dalle origini fino alla caduta, immerso dentro un centro che avrà biblioteche, che avrà centri studi, che farà convegni, che farà altre mostre tematiche sul fascismo e che ospiterà probabilmente nel tempo anche una raccolta bibliografica utile a studiare il fascismo.